Siamo a due passi dal campetto attrezzato a Villa Giochiamo, vicino ad un istituto di credito con accanto un supermercato e a poche centinaia di metri dal centro nevralgico del trasporto napoletano che è Piazza Garibaldi. Decine di carabinieri sono impegnati in un servizio a largo raggio e stanno setacciando la zona senza lasciare nulla al caso. Vani contatori, aree condominali, sottotetto e tombini vengono passati palmo a palmo quando a via Enrico Cosens, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella aprono un portone del civico 13. Nel vano scala una scoperta che aprirà un filone di indagine destinato a ricostruire le dinamiche criminali della zona. Rienvenute sequestrate tre pistole semiautomatiche con matricola a brasa perfettamente funzionanti e una pistola a salve. Trovate poi munizioni, 758 proiettili di vario calibro, non poteva mancare la droga. Sequestrati, 8 involucrano all'interno 650 grammi di marijuana. Ma è un rinvenimento che lascia pensare a un minimarket per il trapigliatore generico medio o a scenari addirittura ben più gravi e pericolosi è quello di 9 massamontagna e 5 maschere. 4 ricordano il personaggio basato sulla graphic novel scritta da Alan Moore e disegnata da David Lloyd. Un'altra ricalca il volto del protagonista della serie televisiva statunitense Breaking Bad. Sequestrate poi diverse parrucche e tanto altro materiale per il mascheramento. Le indagini proseguono con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti e con il materiale per il camuffamento che sarà analizzato.